Mancano alla Campania 250.000 dosi di vaccino. Vorrei dire con un linguaggio da omelia, diciamo, con quale coscienza si accetta di togliere alla Campania 250.000 dosi. De Luca Show a porta a porta. Il presidente della regione Campania, i microfoni della nota trasmissione di Rai 1, non ha perso l'occasione di attaccare il governo alle sue scelte. Il presidente ha nuovamente denunciato le disparità di trattamento per la distribuzione dei vaccini fra le varie regioni, differenze che avrebbero compromesso la campagna vaccinazione in Campania. Per il governatore è necessaria l'approvazione del vaccino Sputnik, di cui la Campania ha già acquistato autonomamente dei lotti. Il nuovo farmaco potrebbe fornire le basi per la ripartenza delle attività economiche. Sputnik, mi domando che cosa sta facendo l'Italia, perché dorme in piedi, perché il vaccino aggiuntivo rispetto ai quattro vaccini contrattualizzati dall'Europa, e cioè Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson, il vaccino aggiuntivo poteva servire a darlo alle categorie economiche e quindi a dare respiro all'economia del nostro paese, ma la Germania si muove, il governo italiano dorme in piedi, come si dice dalle nostre parti. La Campania pone un altro problema, quindi totalmente d'accordo, ultraottantenni, settantenni, eccetera. Uno di coerenza del governo, un altro di rapporto con le categorie economiche, coerenza del governo, ma si può dire alle famiglie italiane, noi apriamo le scuole in sicurezza e poi non muovere un dito per il trasporto pubblico locale. Gli autisti dei Pullman non hanno 80 anni, ne hanno 30, 40, 50. Così per le categorie economiche c'è almeno una categoria economica, quella del comparto turistico per la quale i tempi sono decisivi. Se entro maggio non prendiamo misure conseguenti, noi avremo una stagione turistica pregiudicata, il problema del contagio è rappresentato dalla movida totalmente fuori controllo, ma il problema della movida fuori controllo è un problema dello Stato italiano, delle forze dell'ordine, non dei ristoratori che in maniera controllata, rigorosa, contingentata possono lavorare. Il problema che pone la Campania è questo, noi siamo entrati in una seconda fase diversa da quella di un anno fa. Un anno fa il problema era chiudere tutto, la seconda fase si apre perché abbiamo due novità, i vaccini che non avevamo un anno fa e un economia del paese che è stremata e dunque noi riteniamo che sia ragionevole muoversi su due piani, continuare a vaccinare per fasce di età ma contemporaneamente dare una mano in condizioni di sicurezza alle categorie economiche.